...quelo nel finale ingressi in campo di un corso, una distrazione, insomma, il video è di nuovo sorso e che ci dà anche qualche rischio di trovo, una sua alipote, che questa sera dovrà cercare di limitare i rischi ma dovrà cercare anche di fare i gol, ovviamente potrebbe bastare 2-0 ma è partita delicata perché il vento in assai i partiti del Norte e ha i suoi esterni, questa sera recupera Gaetano che non c'era l'andante c'era proprio sotto del Norte Argentino, cresciuto nel Norte come Terez com'è forte ma non lo so, non lo so, non ci andiamo un recupero fondamentale per il centro campo ma direi anche per la...